Roberto Zuccato mi dice, ciao Pino, cosa ne pensi di Steve Vai? No? Steve Vai Steve Vai Ah Steve Vai, ragazzi, va bene, che domande fate? Cioè, stiamo parlando di uno dei più grandi chitarristi della storia Ricordate che Steve Vai ha 17 anni, io l'ho visto qua a Milano, a Redeccesio Suonava con Frank Zappa e lui ne aveva 17, quasi 18 Pensate da che scuola viene? Steve Vai, pensate, ragazzi, dai Grande artista